sono vittorio gancia e seguo questa azienda fondata da mio bisnonno carlo fu lui a creare nel 1860 il primo fumante d'italia da allora è tradizione brindare gancia mio bisnonno brindò con mio nonno mio nonno brindò con mio padre mio padre brindò con me e dio e i miei figli con voi grazie